ci siamo ragazzi diretta partita questa è la nostra prova tecnica vediamo come va e quindi prendiamoci un attimo per vedere se la linea telefonica funziona correttamente se mi sentite quindi se ho aperto il microfono se si vede bene dovrebbe esserci la schermata stiamo per iniziare e la mia voce se è così mandatemi un ok in questo modo mi viene comunicato che tutto quanto va bene vedo gli ok di Michele Valeria Giuseppe Renato che scrive anche ok tutto bene grazie Renato Edo ciao Edo Sergio Francesca Yolando Sandro l'altro Michele ciao Michele Sante Bruno Rollino Full Giuseppe ciao Giuseppe bene direi che ci siamo quindi possiamo partire con la nostra diretta allora vado a schiacciare i bottoni giusti li trovo sì eccoli qua pronti via ciao amici di Associazione Culturale Maggiolina eccoci tornati in diretta il mercoledì alle 18.30 che è il nostro momento abituale della diretta quindi tutte le settimane salvo imprevisti abbiamo visto siamo qui in diretta a parlare di computer vedo la vostra chat anzi adesso disegno una riga in chat così oltre questa riga poi andrò a rispondere alle eventuali domande allora argomento del giorno è questo quindi parliamo ancora di nuvola e vediamo le operazioni con i file quindi vediamo cosa fare con i file quando siamo sulla nuvola cose che abbiamo visto sul computer quindi file residenti nel nostro computer adesso le facciamo nella nuvola ma vedremo anche una cosa nuova che vale sia per il computer che per la nuvola e quindi una condizione nuova per i nostri file poi sempre qui dal sito amici di Maggiolina dove trovate riepilogo degli ultimi 15 giorni di video e dove trovate tutti i video in ordine cronologico e raggruppati per argomento più sotto se fate scorrere la rotella mi raccomando trovate tutti quanti i video raggruppati per argomento e vi ricordo che il sito amici di Maggiolina è riservato agli amici sostenitori di associazione Maggiolina quindi gli amici che hanno fatto le super chat i super sticker i super grazie che si possono fare in qualsiasi momento e non solo durante la diretta gli amici abbonati gli amici che ci sostengono con altri sistemi a voi va il nostro grazie perché per noi è importantissimo il vostro sostegno ed eccoci qui quindi tutti quanti insieme nel sito amici di Maggiolina allora venerdì ci sarà questo video o meglio questo video è già disponibile per gli amici abbonati ad As Maggiolina Fan perché loro tra i privilegi oltre a vedere i video abbonati hanno anche il privilegio di vedere i video in anteprima quando sono disponibili e quindi eccolo qua così ho anche l'occasione di rispondere a qualche domanda di rendermi conto se c'è qualcosa che non va per cui mi fanno anche da persone che testano il video in anteprima saluto Alfredo e grazie infinite per la super chat poi passa se non lo hai mai fatto dal sito associazionemaggiolina.it pagina amici a compilare le varie cose così poi ti verrà dato accesso al sito amici di Maggiolina ok dicevo questo video già disponibile per gli amici abbonati al livello As Maggiolina Fan sarà disponibile venerdì per tutti e qui ho provato la firma digitale gratuita quella messa a disposizione da CESign la settimana scorsa sempre di venerdì se non mi sbaglio abbiamo messo a posto tutto il nostro dispositivo il nostro smartphone per firmare digitalmente un documento e qui ho provato a farlo prima volta ho fatto la prova di questa firma digitale sono molto soddisfatto secondo me è uno strumento valido intanto è gratuito poi magari ci saranno firme digitali richieste in certe situazioni dove bisogna continuare a usare quella a pagamento però intanto questa secondo me è una buona soluzione per tutti i siti in cui accetteranno questa firma digitale che comunque è garantita dallo Stato quindi non è poco e soprattutto anche per i privati se devi firmare dei documenti eccetera hai una bella certificazione in mano e quindi secondo me hanno fatto un buon lavoro non è difficile da usare anzi e quindi se avete tempo date un'occhiata a questo video perché ci servirà torna utile il telefono con NFC per quello adesso quando proviamo i vari telefoni mi dico prima cosa ha l'NFC ok altrimenti per me non è da prendere in considerazione va bene dai allora passiamo alla nuvola operazioni con i file quindi io sono in Google prendo la pagina di Google proprio eccola qua sono in Google sono logato con l'account di cui voglio usare la nuvola questo è il mio account da esperimento quindi sulla nuvola ci sono tutte cose da esperimento raggiungo la nuvola pallini vado in Drive nella diretta precedente avevamo anche creato una scorciatoia e qui ci sono i nostri file eccoli qua messi sfusi se sono sfusi oppure se voglio le cartelle da qua vediamo e ci sono anche le cartelle ma voglio restare sui file allora le operazioni con i nostri file nel precedente video in uno dei video precedenti abbiamo visto come mandare i file sulla nuvola come caricarlo abbiamo visto come crearlo direttamente sulla nuvola adesso un'altra cosa che possiamo dirci è come cambiare il nome a un file qui su questo computer c'è già un brasato in umido una ricetta avete visto nei video precedenti quando abbiamo lavorato sui file che usavamo le ricette c'è già una ricetta brasato in umido e c'è già una ricetta torta delle rose speciale allora questo brasato in umido non mi piace il nome di questo file non è giusto vorrei dire brasato di manzo in umido o brasato di manzo invece che brasato in umido brasato di manzo quindi mi sono detto quel nome lì non mi piace posso rinominare un file sulla nuvola così come faccio sul mio computer sì e quindi adesso vediamo come si fa devo dire che proverei col tasto destro del mouse di solito però nel mondo internet i tre pallini contengono le opzioni però tasto destro vediamo se funziona tasto destro sull'oggetto in questione quando ci vado sopra il computer focalizza l'attenzione anche se non è selezionato per selezionarlo dovrei fare click adesso quell'oggetto è selezionato perché quando io sposto il mouse rimane selezionato ma in questo caso non mi serve selezionarlo mi basta essere qui abbiamo visto nel video di lunedì le selezioni torneremo a parlarci in un altro ambito torneremo a parlarne in un altro ambito perché è molto importante provo col tasto destro tasto destro e sì qui ho i vari comandi tra cui anche probabilmente rinomina eccolo qua non voglio usarlo faccio click qui e basta se andavo sui tre pallini cambiava qualcosa no è la stessa cosa quindi tre pallini o tasto destro stessa cosa per cui se sei abituato a lavorare i file come se fossero file da computer tu puoi fare il tuo tasto destro rinomina e a questo punto dai il nome al file ti faccio notare che anche qui c'è l'estensione quindi nome del file punto e le tre lettere o quattro come capita a volte per estensione del file per dire in questo caso alla nuvola che tipo di file è dobbiamo regolarci con le estensioni alla stessa maniera del computer quindi le estensioni non si cambiano a meno che non sappiamo esattamente cosa facciamo adesso non torniamo sull'argomento ti invito ad andare a vedere i video del passato per sapere bene questa cosa ma cambiamo il nome scrivo tutto da capo brasato di manzo quindi è già selezionato è già blu potrei cliccare cancellare per scrivere meno ma faccio prima scrivere tutto da capo quindi la freccia del mouse può essere ovunque io non ho fatto click da nessuna parte parto con la B di brasato maiuscola eccolo qua brasato di manzo e poi salvo e a questo punto ho salvato il file quindi il mio file è stato salvato brasato di manzo ed eccolo lì sono a posto e quindi ho rinominato un file perfetto quindi una delle operazioni che facciamo è rinominare il file e adesso l'abbiamo fatto e siamo a posto quindi bene questo lo voglio cancellare questo saluti mario pdf non mi serve lo voglio cancellare per cui una cosa nuova tasto destro perché siamo abituati col tasto destro e dico sposta nel cestino sposto nel cestino e saluti da mario è andato nel cestino qui vedo che c'è scritto spaghetti alla carbonara e quindi vuol dire che questo documento senza titolo ha il nome sbagliato lo devo correggere però prima voglio salutare Giulietta ciao 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 Giulietta e grazie infinite per l'uso della super chat per la tua super chat grazie 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 ok ragazzi allora documento senza titolo non mi va bene tasto destro del mouse rinomina e quindi diciamo che è piuttosto semplice e adesso scrivo cosa c'è scritto lì spaghetti alla carbonara spaghetti alla carbonara e dico ok e il file viene salvato con il nome nuovo viene rinominato e siamo a posto quindi queste cose sono semplici si utilizzano alla stessa maniera del computer qui si è rimesso un po' in ordine probabilmente ha fatto l'ordine alfabetico ah guarda quante ricette costate i mirtilli eccetera maccheroncini alla panna e pisale quante quante ricette che abbiamo qua dentro eccolo qui spaghetti alla carbonara il luccio in salsa tutte sfuse vediamo dove sono se io chiudo tutto allora vado in il mio drive ah perché lì sono tutti nella home page dobbiamo fare attenzione perché nella home page lavoriamo su file che sono qui ma non sono fisicamente qui sono da qualche parte nel mio google drive sono quelli che ho usato più di recente per vedere e avere sempre bene la situazione io devo andare nel mio drive perché lì vedo bene la situazione ad esempio le ricette non sono qui sfuse qui ci sono delle altre cose sfuse ma le ricette agli spaghetti da carbonara questo è fuori posto perché questo è effettivamente in il mio drive ma se io vado in ricette ricette ci clicco sopra due volte primi secondi dolci vediamo il brasato sarà dentro primi presumibilmente lasagna al forno maccheroncini spaghetti e la carbonara quindi c'è un po' di pasticcio il brasato non c'è qua dentro chissà dove è finito adesso nel mio google drive perché ho caricato ah no il brasato è un secondo quindi sarà finito nei secondi qui però c'è un doppio spaghetti spaghetti e la carbonara questo e spaghetti e la carbonara questo sono doppi adesso io non posso sapere se sono identiche queste due ricette per saperlo devo cliccarci sopra due volte vedermi il contenuto ok visto e adesso guarda faccio così vado qui nel mio drive vado in ricette ricette primi e spaghetti e la carbonara questo e lo apro così li ho aperti tutti e due queste sono due finestre con gli spaghetti e la carbonara questo è così e questo è così direi che sono uguali anche perché abbiamo come dire fatto solo l'iniziale quindi sono uguali per cui li posso chiudere chiudo saluto Letizia ciao Letizia e grazie infinite per l'uso della super chat del super sticker nel tuo caso l'omino che salta eccetera quello è un super sticker grazie 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 allora visto che sto facendo ordine stiamo facendo le operazioni con i file quindi prendiamo l'occasione vado in il mio drive quindi nel disco sfuso e sotto qui dove ci sono gli spaghetti e la carbonara li vado a tirare via perché sono un doppione tasto destro sposta nel cestino loro se ne vanno sono andati nel cestino potrei annullare per qualche secondo posso di solito sempre annullare le operazioni vedi che io non sto facendo niente rimane quella scritta lì per un po' ma adesso è stato fatto e quindi a posto gli altri file non mi interessano sono qui sono esercitazione sono sfosi e il brasato eravamo in ballo col brasato quindi vado in ricette vado nei secondi a questo punto di carne e trovo il brasato di manzo quindi io ho rinominato il mio file dalla home page e la home page è andata poi a lavorare sul brasato di manzo nella cartella giusta è facilissimo fare confusione tra home page e il mio drive da principiante ti consiglio di usare sempre il mio drive perché quello che tu vedi qui è da qualche parte nella tua nuvola in questo caso se tu non sai dov'è il giorno in cui qui non lo trovi più lo hai perso perché questa è una facilitazione come spesso accade le facilitazioni ti tolgono delle capacità quindi fin tanto che sei principiante fin tanto che non hai un controllo perfetto della situazione il mio consiglio è usa sempre il mio drive e fai la strada giusta quindi se devo andare a prendere il brasato vado nelle ricette poi vado nei secondi a questo punto vado in carne e qui trovo i secondi di carne il brasato di manzo e il pollo arrosto così non sbagli mai puoi anche cambiare il modo in cui vedi i file se io vado in il mio drive qua e schiaccio le righine i file mi vengono mostrati diciamo per esteso ne vedo anche i dettagli l'ultima modifica le dimensioni il proprietario eccetera chissà se si può allargare questa questa colonna direi di no però posso chiudere questo ok così ho guadagnato un po' di spazio ok qui allora vado in ricette clic e vado in ricette clic vado in secondi due clic in realtà due clic e vado in carne ed ecco qui i miei file i file hanno qui lo scarica il rinomina lo aggiungi a speciali se io aggiungo il file a speciale questo questo è un file speciale nella mia nuvola un sacco di file alcuni per me sono speciali accendo la stellina dello speciale e poi li trovo dentro qua in speciali questa è una facilitazione questi speciali li trovi sempre qui visivamente ma loro sono al loro posto quindi questo è comunque dentro ricette dentro secondi e dentro carne però gli speciali si vede qua che è posizione carne qui mi darebbe tutta la storia però qui io ce l'ho facilmente è come un'icona e viene evidenziato e messo in un luogo dove tu tieni tutti i file per te più importanti tre pallini qui quello che fai qui viene fatto sul file reale quindi se lo modifichi se cambi il nome se lo cancelli eccetera viene fatto sul file reale posso toglierlo da speciali vediamo qua non vedo da qui non c'è neanche la stellina è probabile che si possa forse è questa stellina qua però non vedo come si fa e qui speciali non lo vedo e quindi niente vado di là e lo tolgo da là nello speciale quindi torno in il mio drive vado in ricette vado in secondi vado in carne il brasato di manzo che è uno speciale lo vado a togliere dagli speciali e adesso là non c'è più nei tre pallini trovo tutti quanti i comandi di prima e col tasto destro trovo tutti i comandi di prima questa cosa qui è una scorciatoia cioè sono comandi rapidi perché magari li si usa spesso e quindi te li hanno messi anche qui però sono comunque all'interno di questo menu scarica rinomina gli speciali no lo speciale c'è solo c'è solo là a meno che non sia dentro da qualche parte qui e non so e non so dove ok ci siamo fino qua quindi io ho fatto un po' di ordine ho gestito un po' di cose ho visto che posso rinominare i file nel mio computer come nella mia nuvola quindi col tasto destro nella nuvola ci sono anche i tre pallini e c'è il cestino la nuvola ha il suo cestino che devo gestire o che devo conoscere perfettamente il funzionamento il cestino è questo se vado qui sul mio cestino vedo che ci sono delle cose e vedo che gli elementi nel cestino verranno eliminati definitivamente dopo 30 giorni quindi i proprietari delle nuvole hanno fatto questa cosa siccome le persone che non seguono il canale Associazione Culturale Maggiolina non vuotano mai il cestino facendo una gran confusione tra i loro file e soprattutto riempiendo le nuvole di cose inutili tieni presente che se riempi la nuvola comunque a un certo punto ti troverai a dire è troppo piena devo pagare quindi è anche un vantaggio per te il fatto che il cestino si svuoti dopo 30 giorni quindi se io cancello qualcosa quel qualcosa è stato cancellato oggi qui c'è 18.42 l'orario perché è oggi questo è stato cancellato il 16 febbraio 16 febbraio eccetera altri non ce ne sono spaghetti da carbonara l'avevo cancellato anche il 16 febbraio e poi l'ho ricancellato oggi quindi si vede che ce n'era un altro quindi questo era un altro spaghetti alla carbonara il cestino serve a recuperare i file se io faccio tasto destro ho il ripristina per ripescare il file e andare a vedere che cosa conteneva vediamo questo lo ripristino tasto destro ripristina chissà dove è andato a finire mostra la posizione del file premo perché se io non so dove era quando era stato cancellato come faccio a trovarlo era dentro il mio drive lui mi ha portato lì e me l'ha evidenziato quindi questa è una facilitazione utile se ci clicco sopra due volte vedo che alla fine non c'è dentro niente è sempre quello che mettiamo cancelliamo mettiamo e cancelliamo ok chiudo e ricancello tasto destro sposta nel cestino se il cestino fosse stato vuoto io questo dubbio non ce l'avevo perché quando avevo cancellato il file avevo anche vuotato il cestino e mi ero liberato di un lavoro in più che invece adesso ho fatto torno nel cestino eccoci qua quindi adesso ho cancellato oggi due spaghetti alla carbonara perché uno era quello di prima e uno quello di adesso e basta quindi il nostro computer la nostra nuvola più giusto dire cancellerà i file allo scadere dei 30 giorni quindi questi se ne andranno il 16 di marzo dopo non so se prendano i 30 giorni solari quindi febbraio un po' più corto per cui durano fino al 18 o se prendono la data specifica forse fino al 19 perché fino al 17 perché bisestile non lo so quest'anno come sia comunque prenderanno 30 giorni solari quindi 17 18 19 20 febbraio eccetera fino a 30 giorni o prenderà visto che il 16 febbraio allora il 16 marzo vengono cancellati non lo so ma più di tanto non è che ci interessi durano circa un mese qui però tu puoi liberare spazio subito dicendo svuota il cestino quindi il concetto di svuota il cestino è sempre importante prima di svuotare vedo questo che non ci avevo fatto caso posizione originale quindi se io mi voglio sapere ma questi spaghetti panna tonno e cipolla da dove sono stati cancellati te lo faccio vedere devo sparire per un attimo perché altrimenti lo copro vediamo quindi mi faccio sparire eccomi qua questi spaghetti dove spaghetti tonno panna tonno e cipolla se io li recupero con tasto destro li ripristina ma dove vanno a finire che dopo io non lo so abbiamo detto che c'è l'aiuto ma quell'aiuto lì dura qualche secondo se tu non sei pronto a coglierlo non lo trovi più cioè non lo cogli più però prima di ripristinarlo io posso vedere che il luogo originale era primi questi spaghetti erano nei primi se ci vado sopra mi viene detto che primi era dentro la cartella ricette che a sua volta era dentro il mio drive quindi se io tasto destro lo ripristino e poi non sono così svelto ad andare a cliccare lì sopra vediamo che resta fuori un po' di tempo io mi stavo mostrando ma tu non mi vedi comunque resta fuori un po' di tempo quella voce lì eccomi qua che sono tornato quindi fai in tempo schiacciarci sopra se sei pronto però io non ci ho schiacciato sopra dove è finito nei primi perché avevo guardato questa è una cosa che con il computer windows non si fa non ci ho fatto caso se c'è la posizione originale magari adesso andiamo a vedere e impariamo qualcosa di nuovo comunque quelli lì erano dentro primi per cui se vado in il mio drive ricette primi cos'erano adesso spaghetti tonno panna e cipolla eccoli qua l'ultima modifica è stata fatta il 16 febbraio e l'ho fatta io perché potremo lavorarci di più in più persone su questi file con questo più qui potremo lavorare in più persone sui file ma dedicheremo un video a parte per la condivisione dei file perché è importante e quindi siamo a posto questi li teniamo perché comunque vanno bene voglio fare un salto sul cestino ho qualcosa dai non sono stato bravo non ho vuotato il cestino e ci viene utile questa cosa ah sì guarda che c'è il percorso originale qui io ho cancellato dei file e posso anche vedere dove erano non mi mancava questa cosa qui non avevo mai fatto caso a questo col tasto destro ripristina questo file andrà a finire nel disco di cartella download quindi prendiamoci l'abitudine a questa cosa perché almeno sappiamo dove va a finire se lo ripristiniamo in questo modo è importante avere il controllo su questo bene svuotiamo il cestino però c'è uno svuota qua dentro vediamo se nei tre pallini c'è uno svuota svuota cestino quindi tre pallini sono stati introdotti da android io li ho visti la prima volta sui telefoni android e adesso sono diventati sinonimo di altri comandi altre opzioni eccetera per cui quando trovi tre pallini se ti manca qualcosa dici ma come si farà a fare questo tasto destro del mouse sui computer ma anche i tre pallini sui telefonini tre pallini per forza perché il tasto destro non ce l'hai però anche nel computer cominciano a comparire i tre pallini svuoto il cestino svuoto confermo a posto quindi qui siamo a posto torniamo nel nostro drive che avevo rimpicciolito quindi era qui sotto mi è bastato premere per riaverlo il cestino è già vuoto no lo svuotiamo adesso quindi svuota il cestino elimina definitivamente qui dopo non c'è più nulla che si possa fare assolutamente quindi elimino definitivamente scomparso nessun elemento nel cestino e ciao li hai buttati via li hai buttati nel fiume il fiume ha portato l'acqua al mare il mare ha sciolto tutto e tu non trovi più niente quindi attenzione con le cancellazioni ma attenzione con la cancellazione non con lo svuotamento del cestino se cancelli devi essere certo che quell'oggetto non ti serve più bene e queste sono alcune cose la cosa nuova che volevo farti vedere quindi che non abbiamo mai visto sui file è la compressione dei file cosa vuol dire la compressione dei file vuol dire che un file e che più file possono essere raggruppati insieme in uno unico quindi dieci file possono diventare un file solo compresso sottovuoto è come se tu metti tante cose dentro un sacchetto togli l'aria e tutte quelle cose lì si rimpiccioliscono stanno insieme intanto in un unico sacchetto e senza occupare spazio o meglio occupando meno spazio di quello che è nella realtà quindi che so di solito i piumoni li metti nel sacco e lì d'estate e gli togli l'aria e da grosso così diventa così e tu lo metti nell'armadio quindi o magari metti due piumoni o due cuscini metti insieme togli l'aria sono in un unico sacchetto sono compressi sono lì stanno insieme occupano meno spazio la stessa cosa si può fare con i file se serve ovviamente e adesso lo vediamo perché capita che venga fatto automaticamente in certe situazioni tipo quando io prendo i file dalla nuvola e li porto nel mio computer quindi vado sul mio drive vado in ricette e vado in primi eccole qua se io scarico un file dalla nuvola lo voglio scaricare quindi impariamo anche questa operazione qui lo scarico perché mi serve nel computer lo devo usare anche lì tasto destro scarica il file viene scaricato arriva eccolo qua che sta scaricando finito arriva nel mio computer nella cartella download se il computer non è regolato diversamente quando scarico qualcosa quel qualcosa finisce nella cartella download ed è un file quando scarichi qualcosa è per forza un file perché è una registrazione digitale sappiamo che le registrazioni digitali sono i file benissimo rimpicciolisco potrei andare anche da lì ma facciamo il giro lungo vado in esplora file vado in download perché so che quella è la cartella predefinita per lo scaricamento posso cambiarla io ma non l'ho fatto e quindi va bene così vado in download qui ci sono un po' di cose queste ci sono le mie firme digitali quindi non perderti il video di venerdì così vedi cosa c'è dentro questi file qua come è una firma digitale come si verifica la firma digitale un documento è stato firmato ah ma l'ha firmato veramente eccetera eccetera da lì vedi tutto ciao giuseppe grazie infinite per il super sticker è proprio un super super sticker questo anche dall'immagine che hai scelto grazie 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 infinite allora le mie lasagne sono arrivate adesso sono sulla nuvola e nel mio computer attenzione a questa condizione ho le lasagne sulla nuvola e ho le lasagne nel mio computer è un doppione ce ne sono due quindi quando ho un doppione delle cose devo essere più bravo a gestirle perché se io questa adesso la apro e la modifico lasagne al forno la faccio verde perché così mi va di averla verde e poi salvo adesso questi due file quello sulla nuvola e quello di qua non sono più uguali se il computer non è sincronizzato abbiamo detto non sincronizzare perché finché non sei super esperto meglio di no e quindi adesso io devo essere consapevole che ho due file diversi quindi se questo lo uso qui per un qualcosa l'altro là rimane originale per cui se a un certo punto mi dico questo è meglio di quello là questo lo devo riportare sulla nuvola e fare in modo che sostituisca il vecchio altrimenti ne devo avere due con due nomi diverse chi so lasagne al forno vegane e allora ho le lasagne al forno e ho le lasagne al forno vegane ne ho due ma se io questo adesso lo butto su si incontrano là e si accavallano e quindi ne resta uno solo o le vegane o le altre se non cambio il nome quindi attenzione perché è dove ho i due file che faccio pasticci perché a un certo punto dici no ma quello là è doppio non mi serve lo cancello libero spazio voto il cestino e poi non c'è più da nessuna parte perché hai fatto confusione quindi evitiamo i doppioni in primis da nuvola a computer secondo me ma soprattutto pensaci bene prima di avere un doppione o sini consapevole quindi queste lasagne mi servono per un qualcosa poi le butto via perché non voglio fare confusione di qua e di là se invece modifico la ricetta e la faccio diventare vegana poi la riporto su vabbè dai potevo modificarla direttamente là invece di farlo qui lo facevo direttamente là questo lavoro ma va bene lo stesso comunque quello che mi interessava a me era farti vedere che ho scaricato un file tasto destro scarica ed eccolo qua adesso lo apro eccetera faccio quello che voglio non voglio doppioni questo non mi serve più lui va nel cestino e tra un po' vuoterò il cestino e qui siamo a posto torniamo sulla nuvola allora lasagne al forno vegane adesso mi è venuta voglia lo dobbiamo fare voglio avere anche la ricetta delle lasagne al forno vegane non voglio scaricarle modificarle faccio tutto sulla nuvola facilitiamo un po' i lavori e potrei scriverle da zero posso partire da zero ma posso anche dirmi ma tante cose sono comuni a queste due ricette perché la preparazione perché la cottura perché questo perché l'altro sono uguali io mi prendo le lasagne al forno le modifico quindi cambio un po' gli ingredienti eccetera e poi ho le lasagne al forno vegane però le lasagne al forno mi servono ma voglio anche le vegane come facciamo? duplico il documento quindi sulla nuvola si usa fare così tasto destro crea una copia quindi adesso avrò due lasagne al forno attendiamo che arrivino eccolo qua copia di lasagne al forno lasagne al forno e quindi questo lo rinomino rinomina e lo chiamo lasagne al forno vegane ok così ho dato il nome nuovo per cui queste sono le lasagne in ricetta originale e non faccio pasticci queste saranno le lasagne al forno vegane ci clicco sopra due volte e adesso le farò diventare vegane attendiamo che arrivino eccolo qua noi li mettiamo in verde così sono vegane siamo già a posto ma in realtà chiaramente scriverei tutti quanti gli argomenti tutti quanti gli ingredienti e per che siano vegane vabbè qui mi dice guarda che questo è un file di word deve essere salvato vabbè ok non voglio addentrarmi in questa cosa è una questione di estensioni e lui ha messo a posto il discorso lasagne al forno vegane perfetto guarda ci scriviamo anche vegane qui così siamo a posto vegane il documento si salva automaticamente abbiamo detto un bene o male a seconda della situazione però funziona così e quindi lo prendiamo così salvato visualizza lo stato del documento tutte le modifiche sono state salvate questo documento è pronto per l'utilizzo offline puoi modificare questo documento senza una connessione a internet le modifiche verranno salvate in drive non appena sarà ripristinata la connessione però bisogna dirglielo affronteremo questo discorso in un altro video chiudo e adesso qui ho le lasagne al forno vegane ah però c'è ancora copia aspetta aggiorniamo la finestra perché è un po' strana questa cosa io avevo già cambiato il nome mi è rimasto copia di lasagne al forno qualcosa è andato storto le apro vediamo lasagne al forno vegane ok cambio il nome lo cambio da qua dai posso cambiarlo qui lasagne al forno vegane non so perché la cosa non sia andata a buon fine prima quando ho fatto il rinomina eccetera avrebbe dovuto ah probabilmente forse per la faccenda dell'estensione quindi c'è stato quel problema lì adesso dovremmo essere a posto provo ad aggiornare la pagina perché sennò non è più finita lasagne al forno vegane lasagne al forno eccetera ok dai ci siamo trovati a mettere a posto questa situazione ciao Vanni grazie per il tuo contributo prolungato da abbonato da 40 mesi grazie 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 infinite ok poi leggo anche la chat tra poco vediamo se non perdo il filo no a posto ok ci siamo abbiamo visto un po' di cose quindi abbiamo visto anche che a volte con la nuvola bisogna fare attenzione a quello che succede perché se non mi accorgevo che mancava il nome c'era qualcosa che non andava va bene adesso vediamo l'altro discorso i file compressi io questi file li voglio scaricare tutti questi primi li voglio tutti quanti nel mio computer e li scarico tutti dato che li voglio scaricare tutti tutti devo prima di tutto selezionarli abbiamo appena visto nel video di lunedì se non lo hai visto vai a vederlo perché altrimenti ti mancano dei pezzi poi per fare le cose computer comunque li voglio scaricare tutti e uso un procedimento rapido che ci siamo detti nel video di lunedì che vediamo se funziona ctrl a tengo premuto ctrl colpetto sulla a e tutti i file vengono selezionati tutti quanti insieme tasto destro del mouse su uno qualsiasi tasto destro e dico scarica questi file arrivano nel mio computer qui dice compressione di 5 file in corso ci sono io davanti ma se ne vede un pezzettino 5 file compressi e adesso vengono scaricati nel mio computer sono andati sono dentro la cartella download del mio computer quindi questa è una cosa nuova vediamo i file compressi riduco icona quindi ho rimpicciolito non ho chiuso la nuvola ho premuto il meno ho rimpicciolito vado in esplora file in download e in download trovo drive download dei numeri questi numeri sono la data 2024 febbraio 21 e il tempo sono le 18.42 e questo 3z non so cosa sia ma sarà il compressore secondo me 3z 001 questi file sono compressi quindi sono sotto vuoto hanno impacchettato tutto in un sacchetto hanno tolto l'aria e quei 4-5 file lì non so quanti erano sono lì compressi in un unico file perché hanno fatto così? perché sono arrivati prima meno aria meno cose quindi file più piccoli arrivati in meno tempo perché arrivano lungo la linea telefonica quindi se i file sono grandi impiegano tanto se i file sono compressi impiegano meno perché occupano meno spazio e adesso che li voglio usare questi file cosa posso fare? posso guardarci dentro allora intanto la zip qui ti dice che è un file compresso ti fa vedere visivamente che è una cartella compressa chiusa per cui se io voglio vedere cosa c'è dentro il sacchetto è trasparente ci clicco sopra due volte e vedo i file sono questi qui se voglio usarli però come si deve li devo decomprimere devo aprire il sacchetto e tirarli fuori quindi torno indietro tasto destro e dico estrai tutto do aria e tira fuori tutto dal sacchetto estrai tutto e il computer mi dice ma dove li mettiamo? se io non tocco niente lui me li mette qui di fianco perché li mette in download crea una cartella con lo stesso nome di questa e lo mette lì dico va bene estrai ed eccoli qua poi apre anche ma lasciamo stare chiudo così la vediamo questi sono i file compressi questi sono i file non più compressi questi sono doppioni e abbiamo detto che i doppioni li dobbiamo saper gestire e occupano il doppio dello spazio quindi a me non interessa questa la prendo e lei ciao va nel cestino ce li ho anche sulla nuvola quindi in questo caso erano tre copie perché due qui e una sulla nuvola per cui non esageriamo con le copie comunque qui io adesso se apro ho i file quindi posso vedere i macchironcini panna e piselli posso lavorarci li ho tirati giù tutti in un colpo solo erano compressi hanno occupato meno spazio ed eccoli lì google drive comprime automaticamente i file se tu ne scarichi più di uno contemporaneamente quindi da due in avanti lui te li manda in formato compresso per cui quando tu li hai qui li devi decomprimere per poterli usare anche con il computer puoi comprimere i file per cui ti dici ma dai devo mandare queste tre ricevute a un mio amico eccetera però sono grandi aspetta che le comprimo seleziono tutti e tre quindi abbiamo già imparato che le selezioni sono importanti una, due, tre questa cosa la vediamo nel video di lunedì quindi dai un'occhiata tasto destro del mouse e poi vado in mostra altre opzioni perché voglio cercare qualcosa che dice comprimi vediamo se c'è questo comprimi qui non vedo niente ma so che c'è dentro qui invia cartella compressa quindi crea una cartella compressa premo un click ed eccolo qua tolgo la selezione qui potevo dare il nome ho cliccato fuori e la cartella ha preso il nome del file sul quale ho cliccato sopra per fare la compressione questo è un file compresso che contiene un, due, tre due volte scusa due volte ho aperto ed eccoli qua contiene i file compressi quelli che io ho compresso adesso e questo file compresso posso mandarlo da qualche parte eccetera potrei caricarlo sulla nuvola ma non ha senso perché poi sulla nuvola è compresso lo devo decomprimere la nuvola è bella perché tu ci metti le cose lì e sono belle da usare però se io lo spedisco a qualcuno il fatto che sia compresso riduce lo spazio di viaggio del file e lo ingombro del file in viaggio in sostanza quindi abbiamo visto come comprimere e come decomprimere un file seleziono anche questa ad esempio questa è musica seleziono ce la faccio vediamo seleziono tasto destro qui c'è comprimi nel file zip me lo dà già non avevo visto se prima c'era già comunque mostra altre opzioni c'è comunque crea cartella compressa dove è invia cartella compressa e adesso viene compresso quindi eccolo qua vediamo se è più piccolo quindi questi tre file qua non questi cinque file qui sono 30,1 megabyte sono cinque elementi selezionati per una dimensione di 30,1 megabyte questo quanto è grande vediamo ci vado sopra sono 27,7 megabyte poco ma comunque è sempre più piccoli degli altri alcuni file si comprimono di più di altri allora questo lo butto via cestino questo vediamo allora questi tre quali seleziono tre elementi selezionati 139 kilobyte i kilobyte sono meno dei megabyte per quello che sono di più questi 139 da quell'altro 30 qui devo semplicemente andarci sopra per dire 107 quindi sono più piccoli uno da 107 e tre si vedeva anche da qua da 139 è un doppione lo butto via è un doppione lo butto via e dato che il cestino è pieno di roba che ho appena buttato via io adesso tasto destro svuota il cestino sì e ho liberato spazio nel mio computer vediamo se clicco fuori ecco il cestino è vuoto va bene riprendo la nuvola ed eccoci qua quindi abbiamo visto come scaricare più file dalla nuvola li devo selezionare arrivano compressi li devo decomprimere eccetera 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 allora adesso rispondo le vostre domande vedo subito quella di Michele ne rispondo subito la sua anche se è l'ultima un file compresso con foto si perde di qualità allora le foto non le usi da compresse le devi decomprimere in linea di massima non ci si accorge cioè lui dovrebbe tornare al file originale quando tu lo decomprimi è quello lì tieni presente che il jpeg è già un file compresso quindi la macchina fotografica o comunque la conversione del computer a computer di un file foto di un certo tipo o un file compresso ha già una piccola perdita di qualità diciamo che i fotografi super professionisti potrebbero evitare la compressione perché qualcosa al loro occhio si vede noi non ce ne accorgiamo secondo me donato utente abbonato da 50 mesi grande abbonato e grande donato grazie 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 infinite la tua iconcina da abbonato è numero uno fan vuol dire che sei uno dei primissimi abbonati grazie grazie infinite allora torno indietro e vado a leggere adesso le vostre domande non ce ne sono tante vediamo intanto saluto Rinaldo ciao Rinaldo saluto Aldo che dice buonasera a tutti ma ma sì bello come discorso grande grazie adesso del complimento Todiana dice buonasera a tutti e buona visione grazie a tutti e buonasera a te Todiana Vittorino dice buonasera Daniele vorrei copiare tutte le foto dalla nuvola per poi svuotarla si può fare senza cancellarle dal telefono allora sì però bisogna che ci ragioniamo bene allora intanto se sono sulla nuvola e tu lavori dalla nuvola non succede niente alle foto del telefono però dipende da come lo fai se lo fai dal computer allora dipende da come sono le cose se i file sono solo sulla nuvola se le foto sono solo sulla nuvola che è come deve essere se tu le togli dalla nuvola e le metti nel computer e sulla nuvola le cancelli il telefono non le vede più perché il telefono va a vederle sulla nuvola se invece il telefono ha le foto al suo interno e anche sulla nuvola intanto è un comportamento sbagliato secondo me anche se è lecito cioè puoi fare quello che vuoi però occupi spazio sul telefono e occupi spazio sulla nuvola quindi ha poco senso riempi la nuvola e riempi il telefono e riempi anche il telefono quindi una delle due secondo me va tolta ma se sono da tutte e due le parti quelle che ti rigiuda la nuvola e poi cancelli non vanno a cancellare quelle che ci sono sul telefono quindi il telefono ha la sua copia la nuvola si svuota e l'altra copia finisce nel computer il guaio lo si fa quando non si sa bene dove sono le cose se ci sono di qui se ci sono di là e quindi non è facile da verificare se non si è esperti meglio non fare niente vedo una super chat lo salutiamo è Clemente ciao Clemente grazie 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 infinite per la super chat per noi è importantissima grazie ragazzi è veramente molto importante quindi Vittorino dipende se come è organizzata la cosa per farti capire se io vado sulla mia nuvola fotografica quindi che è Google Photo quindi nuova scheda Google account quello da esperimento vado qui sui tre pallini e scelgo foto queste foto questa è un altro cassetto della nuvola guarda che foto che ho fatto quest'estate quando sono questa primavera quando sono stato in giro al Maggiolina un tour allora dicevo questo è un altro cassetto della nostra nuvola i 15 giga di nuvola sono occupati anche dalle foto queste sono le foto che ho qui sopra e sono state scattate sono organizzate in ordine cronologico quindi qui io devo selezionare le foto se le voglio scaricare eccetera 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 e come faccio a selezionarle se faccio contro la vediamo contro la no allora provo a cliccare su una foto clicco su una foto non così però se clicco qua su una foto ok quella foto lì è selezionata tieni premuto maiuscole fai clic per selezionare più elementi contemporaneamente ma se li volessi selezionare tutti non so se ci riesco qua vediamo se ci sono i tre pallini aspetta dobbiamo togliere le selezioni ok ne seleziono una questa dell'orologio tre pallini scarica modifica preferiti archivi esposta in una cartella protetta non so se le posso selezionare tutte è un po' strano che uno le voglia tirare giù tutte perché posso selezionare tutte quelle di gennaio qui ce n'è una sola tutte quelle anche qui ce n'è una sola i gruppi questa è di martedì 26 anche questa domenica questo di domenica se premo qui seleziono tutte quelle di domenica se premo qui seleziono tutte quelle di sabato non so se c'è un seleziona tutto modifica data aggiungi preferiti modifica posizione archivia mi verrebbe da dire di no in questo momento perlomeno che non lo vedo e poi tasto destro tasto destro invia salva avanti indietro no in questo caso devo andare sui tre pallini e devo dire scarica arrivano come file compressi c'è un modo in cui abbiamo visto come scaricare le cose che era questo ti faccio vedere il video quello specifico allora si chiamava google take out anche out vediamo se si scrive così e se troviamo il video in questione ecco google foto scarico le foto con google take out è un video di tre anni fa ma secondo me si fa ancora così quindi ti consiglio di andarlo a vedere il 242 è un video aperto a tutti qui in teoria tu puoi scaricare le foto di un anno o di un periodo e puoi liberare spazio sulla nuvola se le foto non sono in copia sul cellulare quindi se il cellulare non le ha al suo interno e mi auguro di no perché sarebbe pieno non le vede più perché tu le metti da qualche altra parte e il cellulare non le vede più e poi magari vediamo cosa mi hai detto senza cancellarle dal telefono se nel telefono ci sono in copia non le cancelli facendo così se invece nel telefono non sono in copia non le vedi più perché il telefono fa riferimento alla nuova e magari guarda questo video così ti dichiarisce la cosa Sebastiana caro Daniele mercoledì scorso non c'era la live no Sebastiana la live non c'era perché ho avuto un imprevisto in giornata c'è stata venerdì la live e ho mandato gli avvisi per quanto ho potuto agli abbonati eccolo qua agli amici di Associazione Maggiolina agli amici iscritti al canale Telegram quindi ne ho mandati un po' in giro per poter avvisare ma non ho la possibilità di raggiungere tutti quanti se non hanno le varie cose e poi dopo abbiamo recuperato venerdì quindi abbiamo fatto la live venerdì a sorpresa perché non potevo sapere poi a quel punto quando sarei stato disponibile perché l'imprevisto era variabile su più giorni quindi quando venerdì mi sono detto dai verso 1011 mi sono detto dai ce la possiamo fare l'abbiamo fatta ed eccola ed eccola qua di solito il mercoledì alle 18 ma ho una situazione per cui a volte non è possibile e mercoledì scorso non è stato possibile allora Paolo ciao Daniele ciao Paolo ciao Denis anche se hai ritirato il messaggio magari avrei già posto ciao Giulietta che saluta tutti grande Giulietta Rollino Foll dice ciao Daniele buonasera a tutti ecco Danny dice anche lui buonasera ciao Daniele magari uno sbagliato scrivere cancella il messaggio Anto dice quindi la firma digitale di Aruba a pagamento in cosa differisce Daniele non uso la firma digitale Anto quindi non te lo so dire prima c'era solo quella cioè una firma digitale ufficiale non c'era adesso c'è una firma digitale di CSI garantita dallo Stato dal tuo documento di identità quindi lì non ci piove differisce ci sono vari tipi di firma digitale di tipologia differisce per il fatto che bisogna vedere se dove hai bisogno di depositare un documento con la firma digitale serve una specifica firma digitale di un certo codice vedremo nel video che ci sono tre modi di firmare digitalmente con questo CSI e vedere se uno dei tre è sufficiente secondo me adesso magari non sarà in piena compatibilità perché ci sono già tutte queste altre firme digitali ma secondo me piano piano si allargerà perché effettivamente hai firmato c'è l'attestazione dello Stato che tu hai firmato quel documento penso che nessuno più possa dire niente guardiamo il video poi stiamo a vedere cosa succederà nel tempo è chiaro che le altre a pagamento dovranno effettivamente darti di più e forse lo Stato non avrà voluto pestare i piedi alle altre aziende e quindi non lo so che cosa succeda perché non uso abitualmente la firma digitale però è capitato più volte tipo ad esempio fai l'assicurazione online poi dopo devi firmare il documento è una firma così scansioni eccetera che valore ha devi lavorare un sacco ma poi ha valore se adesso il documento pdf lo firmi col tuo cellulare con CSI è quella lì è proprio una firma e non ci piove e quindi è un passo avanti e secondo me hanno colmato una cosa che serviva una lacuna che c'era e l'hanno fatto gratuitamente e quindi spero che si possa usare in più ambiti allora intanto voglio ringraziare la super chat super chat di Benedetto ciao Benedetto grazie 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 infinite e dice buonasera Daniele a tutti gli amici di Maggio Lina quindi ha pensato anche a voi grazie Benedetto grazie infinite allora poi Dennis abbiamo detto Anto poi c'è Massi che ha scritto qualcosa che non avevo capito prima l'una dice ho seguito il tuo video e potuto fare la firma digitale semplice veloce grazie perfetto non perderti quello di venerdì perché la uso e questo provo la firma digitale è gratuito ho firmato una roba tre volte e così si sa come regolarsi questo è sicuramente per l'uso basico però è una cosa da saper fare perché è utile secondo me poi Anna buonasera a tutti ciao Anna poi vedo un nome famiglia con tanto di cognome ciao a tutti ciao a te ciao a voi allora Ennio dice ciao Daniele mi riferisco al tuo video del 13 febbraio non riesco a trovare su youtube la funzione studio come devo fare allora 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 dove è il video del 13 febbraio questo probabilmente questa settimana dal 12 al 18 12 e 18 13 febbraio devi guardarti la playlist questa è Ennio perché questa cosa non l'ho ripetuta perché l'abbiamo detta 16 volte nei video nei 16 video precedenti quindi sono partito direttamente da lì e la trovi qua adesso lo condivido in chat anche anche prima potevo condividere un video vabbè dai creare un canale youtube vediamo se ce l'ho qui canale youtube eccolo qua tasto destro no ci clicco sopra andiamo alla playlist dove ci sono tutti i video già dal primo vedi vedi questa cosa ma ne parliamo praticamente in tutti i video perché ho fatto vedere come fare in tutti i video allora condivido copio e lo metto in chat questa playlist così chi è curioso di vedere questa cosa può cliccare sul link e vedere i video precedenti di questa di questa serie e mi sono dimenticato di farlo prima anche con l'amico The Google Takeout e dai lo facciamo perché secondo me può tornare utile quindi vediamo vediamo se è questo eccolo qua tre pallini visto che non so come si fa tre pallini condividi copia questi video poi voi li potete condividere via Whatsapp via Facebook eccetera è consentito è gradito se vi capita di dire quella roba lì secondo me interessa anche a mio fratello poi si può tre pallini e condividere ho messo i link in questo momento andiamo avanti con la chat e ho visto che ci sono anche tante persone che la fanno questa cosa della condivisione poi Wanda si dice ciao a tutti complimenti Daniele domanda Windows 10 mi dice che posso aggiornare a Windows 11 su un PC nuovo se io avessi un PC nuovo potrei fare il backup grazie oppure aggiornare solo Windows allora se hai un PC nuovo non ha senso fare il backup non c'è su niente se invece ci hai messo su qualcosa copiati le poche cose che ci hai messo su su un hard disk esterno su una pennetta e via a meno che tu non abbia tanto ma in questo caso in ogni caso devi se hai dei tuoi documenti copiarli puoi ha senso fare il backup solo dei documenti perché i programmi eccetera non si possono backupare non li ritrovi dopo dall'altra parte però l'aggiornamento di Windows se va tutto bene e va tutto bene di solito non ti non ti cancella le tue cose quindi fai l'aggiornamento e stop se però hai delle cose io comunque una copia l'avrei a prescindere e a maggior ragione fai un aggiornamento di questo genere anche se non si è mai sentito che abbia cancellato le cose quindi vedi strano che ancora non sia aggiornato ma ci sta speriamo che non ti faccia pagare non dovrebbe perché in passato non si pagava ma sono passati un po' di anni da quando è uscito Windows 11 quindi guarda bene però se te lo fa fare lo farei se è gratis buonasera Daniele buonasera a tutti dice Lau ciao Lau vanda sempre oppure aggiorno il suo sistema operativo nel pc vecchio grazie e complimenti Luca aspetta ciao a tutti e complimenti Daniele domanda Windows 10 mi dice che posso aggiornare a Windows 11 su un pc nuovo se io avessi un pc nuovo potrei fare il backup grazie quindi non ho capito se tu hai compri un pc nuovo e hai un pc vecchio devi prendere le robe dal pc vecchio metterle su una pennetta e poi metterle sul pc nuovo se ne vuoi anche di là però programmi tutto quanto non ti ritrovi tutto così automaticamente non c'è questa sincronizzazione vabbè e poi speriamo di averti risposto Paolo dice farai un nuovo video su Zorin OS 17 visto che è già disponibile perché no non mi sono più interessato ma andrò probabilmente ad aggiornare il mio computer con Zorin a questo punto così vediamo vediamo com'è anche grazie del suggerimento Paolo poi un altro Paolo dice spaghetti panna tonno e cipolla non si può sentire però è molto buono da mangiare non li hai sicuramente provati ma sono molto molto buoni Pio dice ciao a tutti basta chiamarli in un altro modo comunque ciao a tutti Daniele avevo bisogno di una tua dritta su YouTube quando si vede un filmato come si fa per aumentare o diminuire il tempo di intervento del doppio tap esempio da 20 secondi a 10 secondi non credo che si possa io faccio più volte il doppio tap proprio per andare avanti se voglio andare avanti di più per andare avanti di più puoi trascinare il pallino rosso che c'è sotto ma non credo che si possa spostare diciamo l'avanzamento a scatti di una certa cosa fai attenzione perché spesso nei video sotto ci sono i capitoli quindi puoi saltare da un argomento all'altro quindi quando guardi il video se la riga rossa è spezzettata è perché sotto in descrizione ci sono i capitoli e quindi questo dà una mano non sono un espertissimo ma io li guardo i video e non è che faccio grandi cose Jacqueline ciao Daniele ho avuto i soliti problemi con update di Windows quello capita con gli aggiornamenti di Windows Paolo Daniele scusami ma per accedere alla nuvola Google si può fare solo da Chrome? no si può fare da tutti quanti i browser basta andare su Google quindi se io apro Firefox devo loggarmi ho una vita che non apro questo Firefox quindi devo accedere in questo caso non voglio adesso quindi devo accedere lì una volta che ho digitato i miei dati quindi il mio account Google e la mia password dell'account Google qui trovo Google Drive e vado quindi qualsiasi browser abilitato è chiaro che Drive è sempre il loro e quindi magari col tasto destro eccetera ci sono dei comandi che funzionano meglio o che magari da altre parti non ci sono però si può usare con qualsiasi cosa quindi la nuvola tu vi accedi con qualsiasi cosa Giuseppe dice Daniele guarda che qui c'è venuta fame una bella matriciana no? anche quella ci stava hai ragione hai ragione Vanni vedo i tanti mi piace grazie ragazzi dei tanti mi piace poi Diego dice ciao Daniele e alla chat ciao Diego Lau dice Daniele c'è da qualche giorno CH3 un aggiornamento di Windows che mi dà sempre errore dopo il download forse il problema del mio pc quando un computer non si aggiorna ditevi ma per fortuna perché se l'aggiornamento fosse andato a buon fine il computer avrebbe smesso di funzionare bene hanno messo delle sicurezze in certe situazioni probabilmente la situazione del tuo pc quindi a livello di hardware come composto i pezzi che ci sono dentro le cose che ci sono collegate eccetera non supporterebbero l'aggiornamento e c'è una qualche sicurezza che ferma tutto e quindi va bene così si sta senza aggiornare e stop uscirà un aggiornamento successivo che probabilmente metterà a posto le cose quindi a un certo punto si farà ci sono a volte delle situazioni limite a me è capitato una volta che un aggiornamento non si vuole fare però tutte le volte viene scaricato aggiornalo scaricalo aggiornalo tutte le volte che accendo il computer perde due ore a fare quella roba lì in quel caso ho dovuto formattare il computer perché non si riusciva a levarsi di torno l'aggiornamento non si riusciva a fare l'aggiornamento e quindi ho ricaricato windows e l'aggiornamento si è fatto e sono stato a posto però speriamo che non capiti spesso perché è un lavoro inutile e che fa perdere un sacco di tempo Michele ragazzi forse con i mi piace Francesco dice buonasera lezione interessante anche stasera dice Lau poi aspettate che mi è scappato avanti adesso la chat eravamo arrivati qui ciao Francesco Michele dice un file compresso con foto a questo abbiamo già risposto poi donato Clemente dice un saluto Daniele purtroppo mi sono preso mezz'ora per impegni ma adesso ti ascolto mi sono perso mezz'ora per impegni ma adesso ti ascolto ciao Clemente sai che poi ce l'ha registrata quindi basta guardarla Luce Daniele buonasera complimenti bella lezione grazie Diegoweb13 sta parlando con Lau quindi vi lasciamo in pace Clemente ha mandato prima la super chat grazie infinite grazie ragazzi importantissime per noi queste super chat Anto io se scarico le foto nel pc dal cloud viene la protezione file solo lettura e opzione cancella il blocco e dipende dalle varie regolazioni eccetera da quale cloud su quale pc eccetera comunque va bene Bruno buonasera si può vedere come fare una ricarica alla macchina elettrica difficile perché non ho una macchina elettrica e quindi non ho nessuna esperienza in tal senso e quindi non so darti indicazioni chissà magari un giorno ci arriveremo c'è un ragazzo molto bravo che fa che fa tutto sull'elettrico delle auto elettriche mi sfugge il nome adesso lo guardo ogni tanto e lo direi volentieri lo saluto ma non ricordo proprio come si chiama comunque se cerchi sull'elettrico lo trovi ha una tesla se non mi sbaglio ed è molto molto bravo poi Lau grazie di ok sta parlando con di Google Rolino Full dice devo uscire un saluto a tutti MGL dice lei come fa a spiegare le cose in maniera comprensibile con tanta calma e perché da tanto tempo che lo faccio e quindi viene naturale Marina buonasera e comunque grazie del complimento perché alla fine è un complimento Giovanni scusa ma sono abbonato e ho fatto super chat con bonifico ma Amici di Maggiolina non mi fa entrare probabilmente Giovanni sei una delle persone che mi ha scritto recentemente e vi ho risposto questo per entrare nel sito Amici di Maggiolina serve che voi mi mandiate il vostro account Google e l'account Google solitamente è una Gmail se usate Virgilio se usate Tiscali se usate Team se usate Libero o Yahoo a volte funziona a volte no se non vi fa entrare semplicemente mi scrivete un'email a info chioccio l'associazione maggiolina punto it dicendomi che ho già compilato il modulo ho fatto tutto ma non riesco a entrare questa è la mia Gmail io vi mando l'invito voi lo accettate e siamo a posto poi dopo si entra tranquillamente e cosa volevo dire anche volevo dire questo a volte se voi mi scrivete direttamente da quella Gmail quindi se invece di usare la tua email solita di Virgilio di Libero quello che è tu entri nel tuo account Gmail qua quando vai su Google qui hai il tuo pallino vai in Gmail questa è la tua Gmail mi scrivi quindi scrivi il nuovo messaggio a info chioccio l'associazione maggiolina punto it io posso vedere che tu mi hai scritto con quella Gmail e posso saltare un passaggio ti posso abilitare direttamente diversamente se tu mi scrivi l'indirizzo normale perché mi scrivi un indirizzo io non posso essere sicuro che tu mi abbia scritto l'indirizzo giusto quindi ti devo mandare un invito tu lo devi ricevere devi eventualmente andare a vedere in spam eccetera accettare l'invito e ci impieghiamo di più magari a volte non si arriva in fondo quindi se c'è un problema di accesso mi iscrivete con la la vostra Gmail mi dite guarda che io ti ho già compilato il modulo ho già fatto tutto non riesco a entrare questa è la mia email e io provvedo ad attivarvi quindi aspetto la tua email Giovanni tanto l'account Google ce l'avete perché se sei abbonato e intanto grazie grazie del super chat grazie dell'account per noi è fondamentale ed è un sostegno grandissimo e se sei abbonato comunque l'account Google ce l'hai e quindi puoi usare quello puoi puoi continuare ad utilizzare la tua Virgilio quello che è la vostra email poi potete continuare a usare quella ma il sito Amici di Maggiolina vi riconosce in funzione del vostro account e quindi serve per forza quello ci sono persone che hanno usato il loro account Virgilio Libero e quello che è anche per Google in quel caso loro mi danno la loro Virgilio Libero quello che è e funziona però io non posso saperlo quindi io faccio tutto voi mi scrivete mi date un'email io faccio tutto con quello se funziona vuol dire che avete fatto le cose in una certa maniera e funziona se non funziona vuol dire che invece il vostro account Google e la vostra email sono completamente separate e serve una Gmail lo dico lo diciamo anche qui come funziona il nostro sito Amici eccetera eccetera è importante l'account Google quindi grazie Giovanni per essere arrivato qui avevo risposto anche alla tua email però evidentemente non l'hai ricevuta perché io ti ho risposto subito in giornata quando ho visto quel messaggio lì però dopo non ho più sentito niente e quindi per me era posto così perché ci sono anche persone che ci sostengono e poi dopo loro non vogliono entrare nel sito Amici di Maggiolina quindi non è che stressiamo dai entra dai entra dai entra ognuno fa quello che crede quindi grazie Giovanni speriamo di risolvere insieme scrivimi e vediamo di sistemare le cose poi Marina che ore sono facciamo un po' fuori tempo ma leggiamo gli ultimi perché se saltavo Giovanni mi sarebbe dispiaciuto perché è un po' che sta cercando evidentemente quindi è meno male che sono arrivato a leggere fino a qui Marina buonasera con il mio Windows 10 nuovo mi cade continuamente la linea nel wifi c'è un video che mi può aiutare a risolvere il problema no è un problema di Windows effettivamente quello a volte lo fa ci siamo passati un po' tutti e non c'è mai stato un problema una soluzione facile allora vediamo un po' adesso ho perso un po' il filo allora Giovanni l'abbiamo visto qui siamo in fondo Federico buonasera al nostro maestro Daniele a tutti i discenti è bella ciao Federico poi ciao Wanda ancora Wanda non ha un pc nuovo quindi chissà adesso se siamo riusciti a risponderti giusto Anto ha fatto sparire il messaggio proprio adesso Benedetto dice da sabato anch'io ho un canale YouTube ho seguito la serie sulla creazione e personalizzato e ha la personalizzazione del profilo presente sul canale grande Benedetto se mi vuoi scrivere poi in privato l'account vengo a visitarlo volentieri Francesco buonasera Daniele dove trovo gli esercizi per Excel da scaricare qui nel sito amici di Maggiolina quindi qui nel sito amici di Maggiolina ci sono i corsi di Excel ce ne sono due scarica gli esercizi questo è essenziale è riservato agli abbonati più succinto con gli esercizi oppure scrivi a esercizi Excel chioccio l'associazionemaggiolina.it e un risponditore automatico ti dà le istruzioni poi dunque Benedetto abbiamo detto Francesco Sabrina ciao Daniele buona serata Barbara avrai fatto di sicuro una lezione sui tasti rapidi della tastiera mi sa indicare il numero del corso per ritrovarlo grazie molto interessanti le lezioni che ho scoperto da poco eh sì ma chissà dove perché quelli sulla tastiera sono state molto lunghe vediamo tasti rapidi vediamo se troviamo qualcosa gestire i comandi rapidi guarda chi è che si ricordava lo mettiamo in il numero 22 lo condivido così lo puoi vedere allora tasti gestire gestire i tasti rapidi speriamo che sia quello ma direi di sì avanti sito amici di Maggiolina vedete che ha una ricerca anche tra i nostri video Paolo ciao Paolo dice credo che ti riferisca ad un aggiornamento che termini con il numero ok è un bug vabbè questo Benedetto dice a marzo è un anno che sono iscritto ed abbonato al canale grande 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 Benedetto Barbara dice grazie sei super gentile e a volte non riesco a rispondere a tutti i ragazzi soprattutto per email devo fare una selezione a volte me le perdo me le dimentico quindi portate pazienza scusatemi non è non è sempre possibile poi ci sono dei giorni che magari sono più nervoso e quindi insomma tra commenti e tutto quanto diventa complicato se è un giorno che sono un po' nervoso non rispondo perché così sono sicuro di essere sempre gentile perché è una cosa che assolutamente vi meritate va bene ragazzi ci vediamo al prossimo video alla prossima diretta qui sotto trovate il mi piace per dire mi piace al video vedo che l'avete usato in tanti c'è il pulsante iscriviti al canale per iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto per noi è sempre un piacere per voi è gratis e c'è il pulsante abbonati se volete vedere anche i video della serie speciale abbonati abbonatevi guardate cliccate su abbonati scoprite quanto costa che cos'è eccetera eccetera e poi decidete con calma ci vediamo al prossimo video e quindi già giovedì c'è qualcosa ma probabilmente c'è qualcosa anche domani adesso vedremo cioè già venerdì perché domani è giovedì e basta ci vediamo ci vediamo presto sono pronto a salutarvi devo schiacciare solo i bottoni giusti eccomi qua vado ciao ragazzi buona serata buona cena grazie a tutti grazie a tutti